seguito a farmi suggerire dal computer accendo il computer e l'orario che compare sono le 18 e 08. Questi due numeri sono la base della scala divina la quale è costruita con le due forme che rappresentano in sostanza ciò che esiste in principio. La forma complessa geometrica in cui da zero simultaneamente crescono più uno e meno uno che sono lunghi due il cui cubo è otto il che significa che un cubo complesso ossia con il lato 2 contiene 8 cubi con il lato 1 e questa è la forma della rappresentazione cubica binaria però esiste anche quella intera nella presenza 10. Quando i due indici 8 e 10 si sommano è derivato l'indice 18. Quando questa somma è progressiva e dopo 18 viene 28 38 e 48 accade che questi quattro numeri 18 28 38 e 48 sono una perfetta proporzione perché la somma degli indici esterni 18 e 48 è uguale a 66 che è la somma dei due valori interni che costituiscono il valore medio 66 dato da 28 più 38 il quale valore medio il quale essendo 1 ed essendo 66 maggiore del 48 si colloca dopo e quindi comincia questa scala divina costruita sul 18 e 48 il 18 che poi scavalca il 48 si rilancia del 48 e diventa del 48 e diventa 66 ma chi è rimasto indietro come 48 si rilancia a sua volta di 66 e diventa 114 il 66 rimasto indietro si rilancia di 114 e diventa 180 quando il 18 si è moltiplicato per 10 ed è diventato 180 tutta questa serie a 5 valori è completa siamo passati da 18 che in chimica per esempio è il peso atomico della molecola di acqua che serve per determinare la massa e che contiene 16 e che contiene 16 pesi atomici dell'ossigeno e due pesi atomici delle dei due atomi di idrogeno quindi 18 è il valore della massa che noi usiamo per determinare poi il chilo quando si si moltiplica per 10 e diventa 180 assume il valore dell'angolo piatto di 180 gradi che è la metà del 360 dato dai due angoli piatti che sommano a una area l'altra area ora la somma di tutti questi valori che sono 5 e che sono con il valore il valore medio che è 66 è 426 noi abbiamo questa scala che in sostanza è impostata sul 66 che è il medio proporzionale tra il 18 e il 48 la somma è un prodotto di potenze perché questi sono indici e quando gli indici si sommano significa che le potenze significa che le potenze sono tutte su base 10 e si moltiplicano tra di loro quindi si combinano la regola della proporzione che il prodotto degli estremi quando è uguale al prodotto dei medi determina una perfetta proporzione qui si tratta di prodotto tra potenze che si rivela attraverso la somma degli indici che rivela il prodotto di potenze avente la stessa base 10 ecco la cosa sorprendente e bella è questa e io lo dico proprio per riferirmi a tutti coloro che credono che dalla bibbia non emerga niente altro che il raccontino terra 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 che è fatto per uso e consumo di coloro che la leggono per avere la storiella del popolo di fatto questi valori sono tutti capitoli di una bibbia che diventa un libro unico nel pentateuco che raggruppa i primi cinque libri i quali raggruppati in un unico libro hanno una numerazione dei capitoli tutta progressiva ossia non succede come succede adesso che alla fine del primo libro che si chiama in italiano genesi e è composto di 50 capitoli il secondo libro ricomincia la numerazione dei capitoli da uno no quando facciamo e rendiamo unitario il pentateuco il capitolo primo del secondo libro poiché segue il capitolo 50 ultimo del primo libro è il capitolo 51 e così via alla fine del secondo libro mentre il terzo ricomincia da uno la numerazione dei capitoli prosegue a questo punto ci accorgiamo che i primi due capitoli il 18 e il 48 sono contenuti all'interno del primo libro e costituiscono la base perché la base di una sezione di una sezione aurea è data dei primi due valori che poi cominciano a sommarsi nel modo che abbiamo visto prima occorrono due valori e questi due valori fondamentali il 18 e il 48 esistono tutti e due nel primo libro chiamato genesi ora la cosa importante è che sono veramente libri in cui questi capitoli hanno un interesse fondamentale infatti nel capitolo 18 si racconta che scendono tre dal cielo e vanno a trovare abramo dicono ad abramo abbiamo saputo che a sodoma e a gomorra accadono cose turche siamo venuti a vedere se è vero perché se è vero abbiamo intenzione di distruggere le città allora comincia una trattativa numerica tra abramo e il rappresentante di questa terna la trattativa è numerica ed è interessante perché coinvolge dei numeri che è lo stesso abramo a introdurre il primo valore che introduce è questo è il 50 dice ma se nella città si trovano 50 persone come si deve il mio signore cosa fa distrugge insieme a tutti coloro che non sono in regola anche questi 50 giusti allora il signore dice no se nella città trovo 50 giusti per rispetto di questi 50 giusti io non distruggo la città e a questo punto abramo dice sì signore guarda quanto coraggio io ho nei tuoi confronti ma se ne mancano 5 a quei 50 per questi 5 che mancano tu distruggi tutti questi buoni che esistono il signore risponde no per rispetto di questi 45 io non distruggo le città ora per quale motivo abramo ha tirato fuori quel 50 e poi ha tolto 5 quando in bibbia esiste il principio numerico esso è un principio netto unitario può essere uno dieci cento mille diecimila e l'unità che è ingrandita di una certa quantità di zeri ora però si tratta sempre di cicli i cicli sono aperti per una metà e poi la seconda metà del ciclo riporta all'origine certo passando dall'altra parte in modo circolare però è un ritorno al principio quindi solo la parte di apertura del cerchio quella che porta al punto diametralmente opposto il punto di inizio se il ciclo è 100 quello assoluto è 50 tutto il positivo quindi il numero 50 ha una ragione precisa di essere tale e il signore quando accetta che va bene 50 è perché 50 è l'immagine reale del 100 quando toglie il 5 dal 50 praticamente toglie la sua massa decima ossia quella quantità decima che è la presenza dentro 50 quella presenza unitaria che poi si muove il 45 che rimane è soltanto movimento certo ma è movimento di salvezza infatti quando abbiamo la realtà complessa che abbiamo visto vale 8 e noi 45 li consideriamo gradi e li moltiplichiamo per 8 abbiamo l'intero angolo giro quindi 45 è l'immagine unitaria ottava di un angolo giro che è fatto di 8 volte 45 quindi l'unità è 45 l'unità ottava di un insieme che vale 8 quindi va benissimo 45 a questo punto abramo trova coraggio e dice e se sono 40 la sua supposizione ora è questa la realtà una e trina di dio vale 4 ma dio vale 10 dunque 4 volte 10 è 40 non vanno bene 40 e il signore deve convenire sì 40 vanno bene e allora abramo dice vedi che coraggio che ho io o mio signore e se sono 30 anche 30 infatti vanno bene perché? perché sono interamente i tre lati che creano un cubo che sono 10 ciascuno dei tre lati generatori quindi quando abbiamo tre lati generatori essi bastano a determinare il volume di un cubo e il volume è tutto quindi quando c'è tutto va bene e al signore non resta che dire va bene se ne trovo 30 sono giustificati per salvare perché 30 è un intero volume sano e a questo punto abramo dice già ma se sono 20 e ne mancano questi 10 20 non vanno bene? 20 vedete è il piano 10 e 10 è un piano che è reale è una ampiezza è la sezione intera di un flusso che è 10 e 10 come sezione intera ha l'aspetto intero della sezione per cui esiste una coppia di 10 e poiché 10 è il valore unitario e sono necessari 2 nel nostro sistema binario perché siano validi ecco che anche 20 è un'immagine sufficientemente valida di una unità complessa fatta da 2 e il signore dice sì se ce ne sono 20 va bene a questo punto abramo dice signore quanto coraggio io ho nel trattare con te e se ce ne sono 10 è l'ultima volta che parlo guarda è l'ultima volta che io parlo e se ce ne sono 10 il signore dice va bene se ce ne sono 10 io non distruggo la città perché vanno bene perché 10 è l'immagine lineare del flusso 10 di ciò che è presente 10 è l'unità una delle varie unità poste in principio è l'unità della linea e quando è 10 siamo ancora al minimo del valore accettabile come valore intero rappresentativo di un ciclo perché 1 non andrebbe più bene è il decimo dell'unità di un ciclo ecco quindi questa trattativa fatta al capitolo 18 è fondamentale perché coinvolge proprio l'uomo con ciò che è giusto oppure no a livello di organizzazione nel mondo e quella che ha coinvolto in questa discussione così che sembra una trattativa che è casuale ha proprio quel valore di contenuto che io vi ho spiegato quindi il 18 è fondamentale l'altro fondamentale è il 48 perché perché nel capitolo 48 sta quasi per finire il primo libro perché il primo libro ha 50 capitoli siamo arrivati al momento in cui Giuseppe era andato in Egitto era divenuto il responsabile per la crisi che sarebbe successa e aveva messo a riparo quantità enorme di grano e il bisogno dei fratelli li aveva portati in Egitto e riconosciuto porta in Egitto anche suo padre e suo padre quando arriva trova Giuseppe che ha già due figli e gli dice questi due figli caro Giuseppe sono miei voi dite che c'è di così importante in questo capitolo 48 questi figli sono miei non sono più tuoi ma sono miei saranno figli tuoi tutti quelli che avrai dopo ma Efraim e Manasse sono figli miei c'è una ragione in tutto questo e guardate la ragione è la seguente la si legge nel capitolo 46 quindi due capitoli prima è spiegato nel versetto 26 del capitolo 46 e è importante questo versetto 26 perché ha il numero che rivela Dio e dice nel versetto 26 del capitolo 46 tutti coloro che discendevano da Giacobbe dalle sue cosce quindi dal suo sistema genetico mogli escluse che entrarono in Egitto 66 e vedete introduce quel valore che viene dopo il 48 il 66 il 66 rappresenta l'aspetto maschile mogli escluse quindi tutta la parte genetica 66 che è l'energia vitale in grado di creare vita i tre che sono trovati lì presenti in Egitto sono una unità alla quale possiamo assegnare il contenuto femminile come se fosse l'ovulo e tra i 66 e i 3 si fissa una congiunzione in quel totale che poi è 69 che rivela tutta la quantità di contenuto di creazione infatti se noi partiamo dal principio che è 1000 e lo facciamo avanzare in modo che diventi 10.000 quindi 10.000 è un contenuto in movimento e lo dividiamo per 69 abbiamo diviso interamente un 144 e c'è un resto indiviso di 64 che quando lo vediamo in modo binario è 2 elevato a 6 2 e 6 vedete ha la forma di Dio 26 con il 6 messo in potenza quindi il 114 pardon il 144 che è quello della divisione di 10.000 diviso per 69 determina che ciascuno di quei 69 fruirà un 144 144 praticamente per quanto riguarda la mia persona è l'insieme dato dai primi due nomi Romano Antonio Romano 66 più Antonio che è 78 forma il totale che è 144 ma se noi li mettiamo in sequenza invece di sommarli c'è un 66 78 che rivela di essere una serie di 4 6 messi in fila e 2 6 messi per traverso come i lati del piano 6666 più 6 più 6 ossia più 12 diventano 6678 quindi vedete che questo insieme proprio è l'insieme di una costruzione di un'opera totale del lavoro in forma di 6 perché è 6 in 4 dimensioni e poi nelle due dimensioni del piano frontale questo quando è 66 e 78 messo di fila quando invece si sommano è proprio quel valore di 144 che deriva da tutta la realtà in movimento ossia 10 elevato a 4 che si divide per tutta questa genetica fatta di 69 quantità che si sono messe insieme 66 maschili che sono entrate simili a spermatozoi e hanno incontrato un ovulo simile al 3 ora in questo 3 è compreso chi solo i figli perché ci sono Giuseppe e i due figli manca ancora il padre quando si aggiunge anche il padre sono contati ancora una volta nel capitolo 46 nel versetto 27 che dice che tutti quanti quelli che entrarono in Egitto 70 sì perché abbiamo visto sono come figli 69 in più dobbiamo aggiungere il padre e 69 figli più il padre sono 70 70 è anche il valore cabalistico di Egitto quindi quelli che entrano in Egitto la stessa parola Egitto è 70 bene che cosa significa allora che Israele che è il nome che il Signore ha dato a Giacobbe assume come propri figli i due figli di Giuseppe che bisogno c'era e c'era che in questo modo diventano tutti figli del padre e non nipoti perché altrimenti sarebbero stati due nipoti invece gli altri erano tutti figli quelli che entrano e devono essere tutti figli anche quelli che sono trovati ma c'è un'altra ragione più sottile che riguarda proprio il nome di Giuseppe il quale Giuseppe sapete sarà anche il nome dello sposo di Maria che non è un padre reale è un padre reputato padre di Gesù e proprio per questo abbiamo che qui quando Israele assume come suoi figli scavalcando Giuseppe i due figli di Giuseppe in sostanza rivela già quello che farà Dio quando si tratterà non del Giuseppe che entra in Egitto ma di Giuseppe lo sposo di Maria Giuseppe sarà scavalcato dal padre e il figlio è figlio del padre il padre celeste non il padre reale ecco tutto questo è celato ora un'altra cosa celata è questa che i due figli che aveva avuto Giuseppe erano nati in quest'ordine il primo a nascere era stato Manasse il secondo nato era Efraim allora quando si presentano per la benedizione Giuseppe presenta i figli in modo che il padre mettesse le mani davanti a se stesso e le poggiasse sui due figli poggiando la sinistra sul figlio meno importante e la destra sul figlio benedetto invece si trovò davanti i figli come li aveva messi Giuseppe che non erano nell'ordine che il padre voleva tanto che Giacobbe incrocia le mani e mette la mano destra non sul primo genito Manasse ma su Efraim e benedice Efraim escludendo Manasse ci rimane un po' male Giuseppe e dice ma padre il mio primo genito è Manasse e il padre dice sta bene così perché sta bene così perché vedete è in corso nella fenomenologia la Bibbia divina il boicottaggio dei primi sono sempre boicottati a favore dei secondi e come mai perché la Bibbia dà una risposta complessa non è una risposta semplice quella che dà la Bibbia è quella che si riferisce alla verità ma la verità è che i veri primi sono gli ultimi di conseguenza il primo è boicottato perché il secondo che sembra venuto dopo il primo in realtà esiste prima del primo allora per essere in modo coerente al mondo che ti mostra il contrario ossia ti mostra non l'azione ma l'azione uguale e contraria la Bibbia è molto sapiente e quando deve riconoscere un primo non riconosce il primo ma riconosce il secondo ma questo è come il gioco della cavallina perché il secondo che è riconosciuto primo serve per preparare il terreno al primo proprio come vedete 18-48 e 66 perché è riconosciuto anche nel nostro caso prima il 48 che è Gesù e poi il 66 che è Romano cosa sono questi nomi qui Gesù e Romano sono i due nomi che escono da Genesi 25 in cui nella pancia di una mamma che aveva due grandi cause c'è un grande litigio e allora la mamma va a consultare il Signore e il Signore le dice tu hai nel ventre questa lotta perché in te ci sono due grandi nazioni e due grandi popoli le due nazioni sono in sostanza due stati due modi di essere c'è un modo di essere positivo e un modo di essere negativo tutti e due sono modi di uno stato stato o nazione vedete è la stessa cosa in te ci sono due stati quando la parola è tradotta come nazione non è nell'intendimento proprio del Signore perché il Signore sta parlando c'è uno stato negativo uno stato positivo che si scontrano tra di loro e poi dice e due grandi popoli il popolo è chi vive nello stato ossia il popolo è l'insieme di tutti i numeri che esistono nello stato negativo e nello stato positivo e poi dice che il maggiore si impone sul minore per esempio il 48 qua rispetto al 18 vedete si impone viene dopo si afferma perché viene dopo però serve al minore perché il minore 18 grazie proprio al 48 lo scavalca lo assume come suo e dal 18 balza al 66 e diventa il 66 a questo punto rimane arretrato il 48 il che fa la stessa cosa il 48 è più piccolo del 66 la popolazione numerica 66 è maggiore di quella 48 però serve al 48 perché il 48 si poggia su 66 e si appropria di tutto quello che è il 66 e 48 più 66 diventa 114 quindi in Genesi 25 i due popoli che sono riconoscibili nella storia quali sono uno è il popolo romano che si impone su Israele perché uno dei due figli qui Giacobbe è chiamato poi con il nome Israele del popolo di Israele allora chi volete che sia l'altro popolo l'altro popolo è il popolo romano quindi qui c'è un romano essenza di un popolo non si tratta di una persona si tratta di un valore essenziale che rende essenziale chi è un abitante di Roma e tutti gli abitanti di Roma hanno la facoltà di essere popolo romano quindi è quello che scavalca il personale però è il popolo romano l'altro nome Gesù è proprio costruito attraverso i nomi che avranno i due gemelli che nascono perché il primo che nasce è Esau e come al solito sarà sacrificato a favore del secondo che si chiama Giacobbe pertanto il secondo che veniva dopo si mette prima e si mette prima proprio con la prima lettera di Giacobbe con la G il primo Esau che era uno e trino e aveva il numero uno nella Alef nella A perde la A e diventa Esù e G più Esù fa il nome Gesù che vale 48 quindi quando io ho segnato quelle due frecce che vanno in su sotto un nome Gesù e sotto il nome Romano io non dico che Romano sono io sopra di me dentro di me c'è il Padre nostro sopra di me e questo 66 è il nome del Padre nostro non dell'asino che sono io e che mi chiamo Romano perché il Romano è un oggetto preciso un soggetto preciso mentre invece questo Romano qui è l'essenza di tutto un popolo capite la differenza per cui quando io vi dico che il giorno 26 doveva morire il Padre in me e io vi dicevo muoio io e invece non sono stato decapitato io ma è toccato a un Padre della Chiesa il Padre della Chiesa è più rappresentativo di un Padre riconosciuto Padre denominazione di origine controllata il Lamel è più Padre di quello che è riconosciuto in me perché in me è riconosciuto solo il Somaro ma che ci sia sopra di me il Padre questo non lo riconosce nessuno quindi nel momento in cui una figura rappresentativa doveva essere tolta di mezzo e doveva essere decapitata è toccato al Padre Amel ora vedete la situazione dunque nel 48 siamo sempre lì che riguarda i due figli Manasse e Efraim Manasse è messo da parte ma il Manasse che è messo da parte vedete è una parte del nome Romano perché Romano ha il Man che è dentro il Romano e è il principio di Manasse è lo stesso sacrificio che patisce l'animale Romano in virtù di quel valore trascendente che lo domina quindi il Giuseppe che è in questione il vice re diciamo così dell'Egitto che aveva due figli non uno solo attraverso la nascita di Gesù e di Giuseppe padre di Gesù ne nasce uno solo però Gesù si presenterà due volte e la seconda volta quando si presenterà si presenterà proprio in Romano e non sarà riconosciuto proprio perché in Romano è riconosciuto la bestia l'animale il somaro e non il corpo il soma di un ro che è chi ro che è Cristo quindi quando Israele incrocia le mani e praticamente non accetta quello che voleva Giuseppe che mettesse il primato su Manasse è perché si comporta esattamente come ha fatto Dio ha mandato davanti per primo Gesù e Romano viene dopo ma Gesù serve per preparare il terreno a Romano e Romano serve per spiegare le verità di Gesù ecco quindi la cosa importante nel penultimo dei 50 capitoli del primo libro quando passiamo al 66 che fa parte già del secondo libro chiamato Esodo si descrive la man discesa dal cielo vedete nel 48 c'è il Manasse che è trascurato ma non è trascurato il Man quando diventa Man e quando sulla sabbia lì del deserto trovano questa sostanza bianca che poi useranno per mangiarla la trovano e dicono Man come a dire cosa è sta roba qui cosa significa ma Man è chiamata Man perché ancora una volta vedete ha la radice Man di quello che oggi per noi è l'uomo Man oggi nella lingua inglese che è la lingua oramai del mondo sta per uomo e quindi è il cibo dell'uomo la man ed è la man discesa dal cielo la man discesa dal cielo la vedete in romano quella discesa nel padre figlio e spirito santo interamente in questa centralità di questa scala che comprende 18 48 66 e 114 il capitolo 114 del Pentateuco ripeto quando sciogliamo l'ordine che hanno adesso ricontando un'altra volta da uno nei capitoli successivi noi abbiamo messo insieme tutti e cinque i libri del Pentateuco e la numerazione parte da uno e arriva fino dove arriva ecco il capitolo 114 è importante perché descrive la legge e la legge quella del cosiddetto taglione occhio per occhio dente per dente è l'apparenza di un dio che per imporre la legge non va tanto per il sottile chi bestemmia dio sia messo a morte ora se noi facessimo una roba così ora noi faremmo la stessa cosa che fanno coloro che esaltati nell'islam quando sentono uno che bestemmia Allah lo fanno fuori realmente perché nell'islam prendono per orocolato tutto questo che è detto e gli ebrei lo hanno preso per orocolato ma qual era il discorso trascendente e importantissimo in questo capitolo 114 era che la legge che regola la realtà è quella del vai e vieni simile a un pendolo che va un po' da una parte e poi torna indietro avanti e indietro quando la funzione è circolare l'avanti e indietro invece di ripassare per la stessa parte passa dall'altra parte ma sempre avanti e indietro c'è dunque non è vero che il mondo va sempre in avanti va sempre in avanti perché c'è una staffetta gli uomini a un certo punto quando hanno finito il loro percorso prendono il bastone il testimone e lo passano a un altro che lo porta più avanti che lo passa a un altro noi vediamo sempre solo la corsa in avanti dei corridori fino a che incontrano quello specchio che essendo corridori elettromagnetici simili a onde come tutte le onde di luce quando trovano uno specchio sono rispedite nel verso opposto quindi questa legge dice attenzione da una parte sembra che si fa dall'altra parte si fa in modo uguale contrario quindi tutto ricade su di voi tutto quello che state facendo ricade su di voi ma può sembrare una cosa terribile e invece non lo è se uno parte dal fatto che quando legge anche di un dio apparentemente così crudele deve cercare di capire che è sempre il dio della compassione e della misericordia e come si può intendere per bene una roba così che sembra espressa proprio a livello di quello che mi fai ti faccio è che quello che io ti faccio è disfatto tutto quello che la natura sembra fare che la vita sembra fare poi è disfatto ossia gli eventi ritornano al punto di partenza quindi se fino alla morte sembra esistere un farsi delle cose è perché la verità è quella uguale e contraria che le cose si disfano ora se voi fate fatica a capirlo dovete semplicemente immaginare come si realizza un film di animazione c'è una pellicola tutta disegnata di Paperino Pippo Pluto che sono tante scene separate tutte messe nella pellicola e tra una parte della pellicola e l'altra non c'è nessuna differenza di tempo perché tutta quella pellicola esiste tutta quanta nello stesso presente non è vero che il primo fotogramma sia primo dell'ultimo o viceversa dipende da quale si vede per primo e quando questa pellicola che esiste tutta è spedita a zero muovendosi per esempio da destra verso sinistra uno che la vede stando a sinistra la vede passare fotogramma dopo fotogramma e subisce l'effetto cinematico ossia l'impressione che quel solo fotogramma che vede si animi e i disegni di Pippo Pluto e Paperino si animano sembrano vivi ma non sono vivi perché la prima immagine è sempre lì la seconda è sempre lì la terza è sempre lì si animano solo perché noi vediamo in sequenza una dopo l'altra e solo a questo punto c'entra il tempo di un prima e di un poi e solo a questo punto entra in atto l'animazione dei fumetti dei cartoni animati di conseguenza è in atto di visione un disegno che va a zero che si disfa perché tornando a zero va a zero rientra tutto e torna a esistere in pura potenza di esistere però consente a un osservatore di vederlo in modo relativo uguale e contrario noi stiamo vedendo la verità in modo uguale e contrario e la vediamo in modo fattivo il farsi non esiste perché se nella prima scena è disegnato un paperino che sta per battere un chiodo con il martello e nel quinto il martello è arrivato sul chiodo non c'è questo movimento a meno che noi non lo si veda proprio fotogramma dopo fotogramma e allora e solo allora la scena si anima per animare la scena bisogna vederla nel tempo ma è un tempo che ci mettiamo solo noi di osservazione che non c'è nel disegno di Dio per cui Dio per quanto sia crudele apparentemente il suo disegno non consente nessun gesto fattivo l'unico che ha fatto il disegno è Dio ma consente all'uomo di immaginarsi creatore e di immaginare creatrice la natura ma laddove niente si fa è impossibile il farsi di conseguenza questa legge dell'occhio per occhio che dice che tutto ritorna su le posizioni iniziali è la salvezza da tutto ciò che esiste di cattivo fatto dalla natura e fatto dall'uomo sembra invece che così come è detto che se tu accechi uno lui acceca te questo è il modo semplice semplice di osservare ma il modo vero e complesso è che se le due cose sono opposte una fa nell'altra si disfa e questo poi lo leggiamo proprio nel popolo di Dio quando passando dai primi 40 anni vissuti in terra d'Egitto ai secondi 40 vissuti dopo l'esodo nel deserto nel primo aveva l'illusione di fare qualcosa nel secondo non fa più niente perché fa tutto Dio la manna la dà Dio all'uomo perché mangi l'uomo deve soltanto stare lì a disposizione di Dio e questo è ciò che l'uomo vedrà nella fase rovesciata dell'esistenza quella in cui c'è il contrario per cui vedete che questo capitolo 114 che sembra così terribile non lo è per niente la Bibbia non va presa alla lettera va letta con grande capacità di capire il bello e buono e santo che esiste in azioni che sembrano diaboliche perché per l'uomo per esempio che sia ucciso uno che bestemmia sembra una cosa terribile perché l'uomo crede che la vita sia uno stare bene ma quando la vera vita non è quella di adesso perché adesso siamo schiavi di un disegno è quella che viene dopo in cui noi scegliamo chi essere e quale disegno voler vedere noi ora siamo schiavi questo mondo in questa terra d'Egitto è simile a quello in cui il popolo di Dio era schiavo in terra d'Egitto schiavo del faraone non poteva fare altro che quello che gli era permesso eppure nonostante questo per sfiducia in Dio l'uomo non vorrebbe mai abbandonare questa condizione che vede come la vita e non sa che quello che viene dopo finalmente è la vera vita ora vedete Dio che toglie da questa vita e che sembra uccidere è una condizione generale che fa apparentemente in tutti gli uomini che alcuni li faccia morire prima o dopo non cambia che un uomo nato per morire è sempre una cattiveria ma vedete la questione è eliminata alla radice non esiste la morte perché la morte è il momento in cui nasce la vita la morte è apparentemente il binario morto in cui noi andiamo ma quel binario morto è il luogo da cui partono tutti i treni perché quella è la stazione di testa quindi quando si arriva a capire qual è la verità l'uomo finalmente capisce e esce fuori da questa trappola di questo mondo apparentemente libero che libero non è ma che ti fa nascere nel cuore l'ideale della tua salvezza l'interesse per la vita e questo sarà quello che ti rimane alla fine ciò che hai amato come salvezza e ti seguirà quando uscirai da questa valle di lacrime e potrai finalmente coronarlo potendo fare finalmente tutto quello che vorresti aver fatto tu facendolo non tu mettendoti nei panni di coloro che l'hanno fatto perché tu la tua vita l'hai vissuta interamente l'hai vista non è che la tua vita eterna prenderà te e ti farà camminare per l'universo sarà il tuo spirito che ha a disposizione finalmente tutti gli altri libri di questa infinita biblioteca della vita e che oggi invece hai solo un libro quello della tua vita la tua libertà non sta nell'essere sempre il tuo libro ma nel approfittare del libro che hai avuto per affezionarti alla lettura e poi andare in biblioteca a leggere tutti gli altri ecco l'uomo che si innamora degli altri è come un lettore che ha avuto un libro si innamora della lettura e quando va a restituire il suo libro ha una biblioteca intera di libri che ama tutti l'uomo che invece ama con molta fatica è simile a un lettore che letto il libro ne ama solo una piccola parte e entra nella biblioteca e cerca solo quella piccola parte e praticamente riduce il suo possibile paradiso secondo proprio le sue aspettative ecco ma torniamo a bomba perché se no io mi distraggo quando dal 114 noi attraverso questo gioco di continuo scavalcamento arriviamo a 180 finalmente abbiamo moltiplicato per 10 il 18 siamo passati alla potenza della potenza e in Bibbia si parla di 11 maledetti ma a questo punto vedete bisogna fare il massimo sforzo per arrivare a capire il senso di questi maledetti la maledizione non è augurare a un altro il male è dire di un altro tu sei in una condizione cattiva tu sei detto male perché ti è toccata una vita infelice il maledetto apparentemente da Dio è proprio colui a cui sono capitate tutte le sciagure perché la sua vita gli va male è detta male è detta male non è maledetta e questi 11 che apparentemente sono maledetti lo sono nello stesso modo in cui apparve a un profeta maledetto Gesù quando dice il profeta è dire che noi lo avevamo giudicato maledetto da Dio uomo dei dolori cui il patire è così eccetera invece egli si è fatto carico dei nostri peccati eccetera eccetera il maledetto a questo punto sapete chi è questi 11 maledetti è proprio ciò che esiste all'origine di quel 66 che si divida per 6 66 è tutto l'intorno di un 11 che va in tutti e 6 versi quando questo 66 va da una parte sola vale 11 ed è la velocità 10 su 1 quindi questi 11 maledetti è la presenza di un 11 che è la radice di quel 66 uguale romano insomma questi 11 maledetti è romano ma non perché è maledetto da Dio perché sembra che dalla sua vita egli sia stato maledetto perché gli va tutto storto a un certo punto ha voluto dal corpo a Dio e ha dovuto dichiarare fallimento e parla parla e cerca di aiutare e tutti invece di cogliere l'occasione per cercare di capire che bene quest'uomo vuole fare a tutti gli dicono tu ti devi fare curare perché per loro non vale l'intenzione di bene che esiste nella persona vale solo quella che per loro è l'esaltazione della persona loro non vedono altro che uno che si esalta di se stesso e dice voi non sapete chi sono io io sono Dio come se l'attribuzione divina che io faccio a chi mi crea non fosse per tutti tutti voi siete chi vi fa perché altrimenti tutti voi sareste dei burattini visto che invece siete spirito fate parte dello spirito infinito di Dio il quale Dio è uno spirito assoluto cosa significa assoluto che non patisce alcun limite ora se c'è un limite uno è un limite in che modo l'assoluto supera uno attraverso un infinito modo di esistere unitario e molteplice l'uno che è anche molteplice supera il limite sia dell'unità sia della molteplicità e resta assoluto ma l'uno è il Dio del cielo lo spirito dell'unione e tutti noi siamo lo spirito tutti noi siamo parte dello spirito di Dio e quando io dico una roba del genere a una persona qualunque e quella mi dice devi andare a farti curare perché tu hai qualcosa che non va bene è semplicemente perché io ho a che fare con persone che non sanno stare a sentire che cosa io gli voglio dire e che cosa io gli voglio dare io gli voglio dare la natura divina non gli voglio fare del male e invece loro vedono soltanto uno che vuole attribuire a se stesso e basta la natura divina e invece non hanno capito niente e invece di dire grazie almeno per le tue intenzioni ti mandano a quel paese dicono che per fortuna non ci sono più manicomi perché altrimenti tu andresti in manicomio vedete così va il mondo uno che cerca di spiegare che questo mondo è illusione che bisogna puntare sul mondo in cui si è liberi per davvero perché qui non si è liberi per davvero si può fare solo quello che vuole il faraone perché siamo ancora in quella terra d'Egitto non è ancora arrivato per noi l'esodo da questa vita quando comincia la fase rovesciata in cui accade il contrario esatto di quello che accade ora va bene allora torniamo un po' a tutto questo io vi ho mostrato come sono importantissimi tutti questi capitoli il 18 il 48 il 66 il 114 il 180 fanno tutti parte del Pentateuco ma uno di questi il 114 è un libro intero il Corano che il Corano non è come abbiamo dovuto fare qui per arrivare al capitolo 180 non è così il Corano è un libro solo è già tutto un libro solo e si occupa totalmente di 114 capitoli l'ultimo capitolo del Corano il 114 tratta dell'uomo ma il termine uomo in lingua araba è Annas ossia è proprio quella Santa Anna che è l'essenza materna nella madre di Gesù Cristo vedete la madre di Gesù Cristo è la madre ma se noi vogliamo l'essenza materna nella madre dobbiamo prendere la nonna quando nelle varie preghiere si fa osanna in italiano sembra quasi di dire che Anna osa nell'alto dei cieli Anna proprio Anna perché quando vogliamo dare a Gesù un padre reale e una madre reale dobbiamo saltare la generazione di sua madre e andare a prendere i due genitori di sua madre che sono San Gioacchino e Sant'Anna una celebrazione poi che era il 26 del mese scorso quando c'è stato quello che aspettavo di importante la decapitazione del padre ed è stato decapitato il padre Amel che ripeto punta a me perché Amel e Am I Am io sono El Elohim Am El che è la stessa cosa che Am o Deo Deo o El Am o Deo e Am El sono e indicano la stessa cosa ma quel giorno lì in cui si celebravano insieme i due genitori di Maria tutti e due era proprio quel giorno che entrava nella profezia fatta da Daniele in cui l'altro estremo è quel 17 febbraio 17 agosto che ci sarà tra qualche giorno ora quello che io vi voglio fare vedere come stimolo proprio di quello che il computer mi dà oggi mi ha dato il suggerimento di 18.08 e io ho fatto la serie divina di 18.48.66.114.180 facendovi vedere che relazione esiste tra la Bibbia e il Corano anche nel Corano c'è un Dio terribile ma non è terribile se date retta al primo capitolo al primo versetto del primo capitolo che bisogna ripeterlo davanti a ogni 114 a ogni capitolo che dice il nome di Dio il compassionevole il misericordioso allora se voi leggete il Corano e trovate nel testo nel capitolo un Dio che non sembra compassionevole o misericordioso dovete intenderlo nel nome di un Dio di compassione e di misericordia ossia esattamente come vi ha mostrato Gesù Cristo ora in questa storia del primo e del secondo di questa sezione aurea ecco io ho avuto nella mia vita io che sono il primo l'avvento di un secondo mio fratello mio fratello si è chiamato con i nomi che vedete sono segnati sopra il 426 Benito Vittorio Anna Giovanni Vincenzo Amodeo Benito vale 59 Vittorio 116 Anna 26 Giovanni 83 Vincenzo 95 e Amodeo 47 il totale 426 che vedete è uguale proprio a tutti i valori di questa scala divina ebbene quando è nato e si è aggiunto a me primo questo secondo dopo 864 meno due giorni della mia vita ossia come i 100 secondi di un giorno 864 per cento porta i secondi di un giorno a 86.400 ora quando togliete 200 ossia due giorni qui perché il giorno vale 100 in questo calcolo voi in pratica cosa fate togliete un piano assoluto di lato 100 e lato 100 e 86.400 diventa 86.200 il numero è solo 862 e quando io ho vissuto 862 giorni praticamente ho vissuto un flusso simile a quello di tutti i secondi esistenti in un giorno in gruppi di 100 quando se ne tolgono due quelli della sezione quindi è stato calcolato solo il flusso in linea di 864 ebbene alla fine di tutti i secondi come flusso a me primo si è unito proprio questo secondo che ha avuto e ha tuttora mio fratello in me questa funzione di assecondare la mia vita proprio in un modo che è come vi faccio capire ora io prima che fosse concepito questo secondo ho vissuto 862 giorni ebbene dopo che questo secondo è morto e se ne è andato in cielo esattamente riconosciuto come atto di morte l'otto del mese 4 del 2014 se voi prendete il valore prima che egli fosse ossia quando c'ero solo io di 862 giorni e lì aggiungete dopo la morte di mio fratello ossia li aggiungete all'otto di aprile del 2014 arrivate esattamente al 17 agosto in cui io vi dico a termine la mia vita e allora vedete bene come questa vita tra me e mio fratello è proprio simile a quella della sezione aurea in cui c'è un primo che vive da solo poi vive unito al secondo e quando se ne va il secondo e è compiuto in tutta la sua vita il secondo il primo che era da solo si aggiunge dopo l'uscita di scena del secondo ed è la volta in cui se ne vada in cielo lughi e quindi è una ragione in più che porta a credere che visto che mio fratello è uscito di scena realmente toccherà questa volta di uscire realmente di scena io perché mio fratello si è messo al centro esatto di una vita che ha avuto prima e dopo che mio fratello fosse con me la presenza di mio fratello in mezzo con un periodo di 862 giorni che ho vissuto da solo prima e 862 giorni che ho vissuto da solo dopo e vedete che primo e secondo sono proprio simili a questo che è espresso così in questa scala di una serie progressiva di tipo divino divino perché il 426 porta il valore 400 a essere come la dimensione 1 e 3 ossia 4 che si moltiplica per il totale ossia per 100 e poi c'è quella forma divina di tipo rotatorio che sono il 26 perché il 26 ha la funzione rotatoria che rimanda al 7 il 7 praticamente è una velocità 1 su 1 che si muove in tutte e 6 versi e diventa 6 a 1 per comporre 6 a 1 occorrono 7 dimensioni e quindi una circolarità questa esprime il 7 e quando ce n'è 26 più 26 di questi 7 in un anno è l'intera circolazione reale e immaginaria che completa tutto il cerchio quindi in pratica abbiamo un 400 in linea e un 26 che è tutta la funzione circolare quindi il totale di questa serie è importantissimo ma è importantissimo che questo valore così preciso per me è stato poi il valore numerico della causa seconda che si è aggiunto a me causa prima